Non si placa neanche dopo i lavori di pulizia e di lavori di bonifica la preoccupazione per l'eventuale contaminazione dei fanghi della vasca Cicalesi a Nocera Inferiore. Il gruppo locale di attivisti del Movimento 5 Stelle insieme ad altri cittadini hanno inviato un esposto all'ARPAC, Dipartimento di Salerno ed Avellino, oltre all'unità siti contaminati dove richiedono campionamenti ed analisi dei fanghi presenti oggi nella vasca per valutare l'eventuale contaminazione con altri agenti inquinanti che possono essere pervenuti in seguito alla laminazione delle acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana. Il gruppo chiede inoltre controlli alle acque di scarico dei depuratori. I dati raccolte a seguito dell'esposto dovrebbero fornire rassicurazioni in merito all'idonietà per uso umano delle acque di fonte dell'agronocerino sarnese. Le preoccupazioni infatti nascono anche in virtù delle acque confluite e laminate con gli ultimi episodi di pioggia del 9 e 10 ottobre. Nel loro esposto il gruppo attivisti di Nocera Inferiore del Movimento 5 Stelle imbraccia i filmati della nostra emittente relativi alla lavorazione dei fanghi della vasca di San Mauro. Fanghi che, secondo i grillini, potrebbero in parte essere ritornati nella vasca stessa contaminandola nuovamente. Oltre alla recente notizia del possibile inquinamento delle falde o di alcuni pozzi con tre tacroloritilene, che potrebbe derivare, secondo il Movimento 5 Stelle, dal contenuto della vasca cicalesi, che viene poi utilizzato anche per irrigare i campi, visti i collegamenti delle falde sotterranee tra Montoro, Castel San Giorgio, Nocera e Sarno.